90, da 190 a 198, poi c'è 200, per cui praticamente rifacendo nuovamente, ricontrollando nuovamente i civici, i civici si parte dal numero 190 fino al 200 e sempre la sanità di Roma, tranne tranne il 198 che appartiene da uno specialista, insomma non ci interessa mica, comunque sempre a Trabia, la sanità di Roma, poi ancora la Flora Sud di Salvatore Balistrene e Dino Cancilla, grazie, vi danno finalmente una penna così tra poco appunto tutte le ditte, dicevo la Flora Sud di Salvatore Balistrene e Dino Cancilla, sempre a Trabia in corso della masa 119, dopo la pubblicità delle 16.30 siamo tornati sempre in diretta, sempre da Piazza Duomo di Termini Imerese, giornata molto ma molto calda e il sole ci arriva sempre di più perché si abbassa e poi nonostante il nostro piccolo gazebo che ci trattiene un po' il calore del sole però abbassandosi chiaramente riesce ad entrare dappertutto. Comunque ancora buon pomeriggio, buon ascolto, buona sintonia sui 99.700 MHz in FM oppure sui 102.5, fate voi, dipende da dove ci ascoltate, se ci ascoltate dal lato di Palermo partendo sempre da Campo Felici di Roccella, la sintonia, la frequenza è 99.700, se ci ascoltate da Cefalu in poi verso Vensina, chiaramente la sintonia cambia di 102.5. Vi ricordo anche il nostro numero per i vostri SMS eventuali, volete mandarci un saluto, volete così richiedere qualche canzone preferita oppure contattarci direttamente qui come ha fatto qui un caro amico a cui tra poco manderemo un brano, 334-2625-645, ripeto ancora 334-2625-645, il nostro numero per i vostri SMS. Ancora musica! RB Stereo Sound, la vostra musica preferita in diretta. RB Stereo Sound, la vostra musica preferita in diretta.